Un dato che conforta come un abbraccio rassicurante, quello diramato ieri dal bollettino dell'unità di crisi della regione Campania, 13 positivi su 3.014 tamponi eseguiti con un dato complessivo di 4.423 contagiati. La Campania mette la freccia e per metà maggio, come previsto dalla regione, sarà vicina al contagio zero. Nelle ultime ore massicci controlli da parte delle forze dell'ordine in vista della fase 2 che scatterà il 4 maggio. Una residenza per anziani di Bacoli in provincia di Napoli è stata visitata dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Baia. Nella struttura erano stati allestiti un numero di posti letto superiore rispetto a quello massimo previsto e c'era assenza di servizi igienici per disabili. Inoltre, pur trattandosi di una struttura a residenza leggera, destinata cioè ad accogliere persone che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa, ospitava anche anziani non autosufficienti. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, insieme ai reparti specializzati dell'arma, hanno invece iniziato i controlli in tutte le aziende produttive sparse a Napoli e provincia. Interessate anche le aziende in possesso del codice Ateco rilasciato dalla prefettura, che hanno riaperto o che sono state riconvertite per le esigenze coronavirus. L'obiettivo dei carabinieri è verificare che le aziende segnalate dalla prefettura di Napoli rispettino i parametri previsti. Controlli a San Giorgio a Cremano, di parrucchieri, barbieri ed estetistiche, con qualsiasi divieto e con nessun mezzo di protezione, sono stati sorpresi ad esercitare presso abitazioni private. Da lunedì 4 maggio riapriranno al pubblico il cimitero di Pozzuoli, in via Luciano, e quello di Torre del Greco. Stabilizzata invece la crisi sanitaria alla casa di cura Santa Maria del Pozzo, come afferma il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno. Tutte le misure necessarie per la clinica di Santa Maria del Pozzo sono state messe in atto. E così lo stesso per la villa Arianna, che è sul comune di Cisciano, ma ci sono 11 dipendenti del comune di Somma Vesuviana. I positivi alla clinica di Santa Maria del Pozzo rimangono 24, le condizioni sono stabili, i 20 pazienti sono nelle strutture Covid della provincia di Napoli, mentre i dipendenti e i consulenti sono a casa. Speriamo che la situazione migliori quanto prima possibile, perché, come ribadivo in un'altra diretta, dietro questi 24 nomi ci sono 24 famiglie che in questo momento stanno vivendo un momento davvero particolare. È tutto esaurito il treno Milano-Napoli del 4 maggio. Trenitalia raddoppia le corse, posti esauriti anche su autobus e aerei. La fase 2, che non ha riaperto quasi nulla, mette però nero su bianco la possibilità di rientrare a casa, anche se la residenza si trova in un'altra regione e perfino se si viene dall'estero. Questo ha fatto scattare, di fatto, la corsa alla prenotazione e già sono state raddoppiate le fricce rosse. Ho avuto un colloquio con il ministro dell'Interno Lamorgese in relazione al previsto esodo verso la campagna del 4 maggio, a parlare il presidente della regione, Vincenzo De Luca, commentando l'esodo previsto dal governo. Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi nella nostra regione una massa incontrollata di persone che possa dare vita a un nuovo focolaio del virus. Ho chiesto al ministro che il governo nazionale ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e comunque sempre autocertificati. Per quanto riguarda la campagna rimarrà fermo l'obbligo oggi vigente per chiunque arrivi da fuori regione di segnalare la sua presenza all'ASL di competenza, così da poter procedere ai controlli nei 15 giorni successivi. De Luca poi invita i sindaci a segnalare alle ASL e alla regione gli arrivi nell'ambito dei propri territori e questa ha una funzione essenziale, dice, per consentire di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Mai così male dal 1995 i dati sul prodotto interno lordo registrano un crollo pesantissimo anche se atteso. Nel primo trimestre del 2020 il PIL è diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. È la stima preliminare fatta dall'Istat. La flessione del PIL legata all'emergenza Covid-19 è di un'entità mai registrata dall'inizio del periodo di osservazione dell'attuale serie storica, che ha inizio nel primo trimestre del 1995. La stima del PIL del primo trimestre rilasciata dall'Istat sarà oggetto di revisione nelle prossime diffusioni, man mano che si renderanno disponibili ulteriori fonti informative. Tali revisioni potrebbero essere di entità superiore alla norma. Se l'Italia va decisamente male, non stanno molto meglio i paesi dell'Eurozona, che complessivamente hanno subito una contrazione del PIL del 3,8% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti. Con l'entrata nella fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i mezzi del trasporto pubblico campano vedranno crescere repentinamente il flusso degli utenti. Nel territorio regionale, come mostrato da diverse segnalazioni dei cittadini, ancora prima della cosiddetta fase 2, gli autobus di linea sono risultati pericolosamente sovraffollati in relazioni alle normative di sicurezza per contrastare l'epidemia. In un video che sta spopolando su Facebook si vede che alcuni cittadini napoletani si lamentano con il conducente di un autobus di linea che permette a passeggeri a fermata di saturare il mezzo con un assembramento all'interno della vettura. Sull'accaduto è intervenuto il presidente della commissione trasporti del comune di Napoli, Nino Simeone. Sono molto preoccupato per la questione sicurezza sugli autobus. Io stamattina sono stato a verificare quelle che sono le condizioni sugli autobus, se lo sto facendo personalmente, le condizioni di sicurezza sugli autobus. Non va bene, troppa gente a bordo, troppa gente sulle fermate, la distanza non viene assolutamente garantita, si mette a repentaglio la salute dei cittadini, dei passeggeri e degli autisti. Chiedo l'intervento delle forze dell'ordine, l'ho chiesto, lo ripeterò, l'ho detto in consiglio comunale e nelle serie istituzionali opportune, ma sembra che da un'orecchia gli entra, dall'altro gli esce. Vuol dire che scriverò di nuovo al prefetto direttamente, persona a quale so molto attenta a questore e prefettura e vediamo un attimino di mettere in piedi qualcosa di concreto, perché la sicurezza è la prima cosa e il prefetto e il questore lo sanno bene. Probabilmente nelle altre serie istituzionali fanno finta di non capire o non vogliono capire. Beni per un valore di 50 milioni di euro sono stati sequestrati al clan Mallardo. In un'operazione congiunta, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno infatti dato esecuzione a un sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della DDA di Napoli nei confronti di Carmine Maisto per i reati di associazioni di tipo mafioso, riciclaggio, bancarotta fraudolenta e trasferimento fraudolento di valori. Maisto, grazie ai legami intessuti nel corso degli anni con esponenti apicali del clan Mallardo, secondo gli inquirenti ha costituito una vera e propria holding criminale con lo scopo di riciclare proventi illeciti del clan attraverso una fitta rete fondata su società immobiliari, strutture alberghiere, ristoranti, ville, ma anche appartamenti, edilizia residenziale, supermercati, scuderie, stabilimenti balneari e altri beni a lui di fatto riconducibili. Sequestrati 112 immobili, numerosi conti correnti ed effetti cambiari, 4 automobili di lusso, 2 scudere ippiche ed orologi di pregio. Il clan Mallardo, radicato tra Giuliano e comuni limitrofi, per gli inquirenti è una delle cosche più potenti di Napoli con un ruolo di primo piano nell'alleanza di Secondigliano insieme ai contini e ai licciardi. Il cartello che si contende il predominio degli affari illeciti con i rivali dei Mazzarella. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Una app da scaricare sullo smartphone è un bracciale al polso che consentirà di muoversi in sicurezza e, grazie alla geolocalizzazione, impedirà comportamenti avventati o scorretti. E poi droni di ultima generazione, per un controllo assoluto del vasto territorio scoperto della città antica e delle zone non scavate, da sempre a rischio tombaroli. Tornare a Pompei e dalla fine di maggio in poi sarà dunque un'esperienza nuova e inedita. Il direttore del Parco archeologico Massimo Osanna anticipa così il progetto che si sta mettendo a punto per la riapertura che punta molto sulla tecnologia. La prima settimana di apertura, che potrebbe anche essere dal 18 maggio, sarà sperimentale con una serie di percorsi tra anfiteatro e palestra fino al quadriportico dei teatri. Poi dopo un paio di settimane, quando sarà in funzione sia il braccialetto e l'app da scaricare sul telefono, entreranno in funzione due diversi itinerari che prevedono anche la visita di alcune domus scelte, tra quelle che sono dotate di un'entrata e anche di un'uscita, così da permettere al flusso dei visitatori di scorrere senza assembramenti. Il primo passo sarà la prenotazione online. Una volta arrivati sul posto, i visitatori saranno invitati a scaricare l'app. Passati controlli di sicurezza attraverso termoscanner, ogni turista riceverà il suo braccialetto. Quest'ultimo sarà dotato di un codice associato al biglietto di ingresso, che può essere trasmesso a distanza, permettendo servizi specifici, tra cui per esempio l'ingresso su prenotazione e in aree altrimenti riservate. Il mondo del teatro salernitano piange la scomparsa di Gino Esposito, 77 anni, attore, regista, autore e fondatore, prima del teatro al ridotto, poi del teatro arbostella. Il sorriso e l'umiltà hanno sempre contraddistinto il lavoro di Gino, garbato, gentile, ma determinato, tanto da essere diventato nel tempo un riferimento importante per la cultura, lo spettacolo e per la città di Salerno. Nato a Sarno, ma adottato in pieno dal capoluogo, Gino Esposito se ne è andato questa mattina, poco dopo le 8, nella sua casa, circondato dall'affetto e dalle amorevoli curie dei suoi familiari. Gino Esposito è stato il fondatore della compagnia Gruppo Omoristico Salernitano, che aveva messo insieme nell'ottantano 1976 e che poi negli anni aveva assunto il nome di teatro comico salernitano. Ora era il direttore artistico del teatro, Arbostella, una sua creatura. Appena la notizia si è diffusa, tanti messaggi apparsi sulle bacheche social. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto esprimere a nome dell'amministrazione comunale il suo corduglio. Passione, gentilezza, tenacia hanno contraddistinto ogni sua iniziativa, ha detto il sindaco, fino all'ultimo il teatro Arbostella, nella quale egli valorizzava generi e talenti. Con Gino Esposito, Salerno perde un prezioso punto di riferimento artistico che ha ispirato diverse generazioni di artisti ed autori. Un uomo decesso a Nocciare Inferiore non ce l'ha fatta un uomo trasferito ad inizio aprile dall'Umberto I ad Eboli. Era anche lui uno dei ricoverati nella chirurgia dell'ospedale di Nocciare Inferiore. Dopo la diffusione del contagio nell'unità operativa era stato sottoposto a tampone ed era risultato positivo. Sembra che le sue condizioni fossero state sempre critiche. Dopo settimane di lotta è arrivato il decesso nella giornata di ieri. Si registra a Nocciare Inferiore anche una nuova guarigione, a cui va aggiunta quella ora confermata di uno dei pazienti per il quale il sindaco Torquato aveva parlato sabato scorso di una imminente guarigione. E' infatti arrivato l'esito. Per un altro, per il quale si è parlato sempre di una imminente guarigione, si attende il risponso del terzo tampone. E sono risultati negativi i tamponi eseguiti sui primi tre pazienti posti in isolamento nell'area Covid intraospedaliera dell'Umberto I. Uno di questi è già stato trasferito nel reparto di neurologia. L'altro, sempre con problemi neurologici, sarà portato nell'unità operativa di riferimento in queste ore. Trasferita in cardiologia l'altra paziente. Per tutti e tre i sospetti di contagio erano lievissimi, ma in via precauzionale, prima del ricovero in neurologia e cardiologia, si era preferito scongiurare ogni pericolo con l'esecuzione del tampone e l'attesa dell'esito nell'ex malattie infettive, che da questa settimana è nelle mani del pronto soccorso. E si lavora in sinergia con i medici dei reparti di riferimento, visto che nell'area multidisciplinare di osservazione breve vengono ricoverati casi sospetti che sarebbero in realtà indirizzati per patologie urgenti ad altre unità operative dell'ospedale di Nocera. C'è già ora una nuova persona per l'isolamento. Si tratta di un paziente arrivato nella serata di ieri nei punti covid dinanzi al pronto soccorso. Nel pretriage i sanitari hanno riscontrato un sospetto contagio. L'uomo aveva immediata necessità di cure da neurochirurgia. Così è stato ricoverato nell'area covid intraospedaliera in isolamento in attesa dell'esito del tampone, provvedendo intanto i sanitari alle cure per la patologia per il quale era arrivato all'Umberto I. Una manciata di minuti per effettuare il fatidico tampone 48 ore, al massimo 72 per ottenere i risultati. Il comune di Pelezzano risponde presente, si conferma in prima fila nel piano screening tamponi voluto dalla regione con la supervisione dell'istituto zooprofilattico Campano. Da stamane presso la sede di staccata di coperchia dell'Avis di Pelezzano circa 300 persone, considerate come soggetti appartenenti alla popolazione sovraesposta al rischio di contagio da coronavirus, si sono sottoposte al tampone faringeo. Si tratta delle categorie maggiormente a rischio, tra queste il personale medico-sanitario, le forze dell'ordine, i dipendenti comunali, i dirigenti, gli impiegati delle scuole e dei territori, oltre ai volontari della protezione civile dell'Avis. Le parole del primo cittadino Francesco Morra. Sì, questa mattina dalle 9 abbiamo fatto già all'incirca 200 tamponi, dobbiamo arrivare a quota 300 che l'amministrazione comunale, grazie anche al supporto dello zooprofilattico, autorizzato dalla regione Campania ad effettuare i tamponi alla popolazione sovraesposta. In particolare noi abbiamo segnalato all'istituto zooprofilattico le persone che dovevano essere sottoposte, che sono stati soprattutto operativi nella fase 1 del Covid-19. In particolare la polizia municipale, protezione civile, i volontari dell'associazione Avis, un po' tutti gli operatori sociosanitari, anche i medici di base con i rispettivi collaboratori, le parrocchie con i parroci che sono stati presenti a consegnare le derrate alimentari attraverso iniziativi solidali, i dipendenti comunali, soprattutto quelli esposti al front office e che non stanno in smart working, come i dipendenti degli operatori ecologici della Pellezzano Servizi, un po' tutto il mondo che non si è fermato nella fase 1. Iniziativa molto importante, farla tra l'altro tra i primi comuni avere uno screening preciso ci aiuta sicuramente ad avere massima attenzione anche per la fase 2. In particolare per quanto riguardano i due casi positivi che avevamo a Pellezzano, hanno effettuato entrambi il terzo tampone che è uscito negativo, hanno effettuato anche il quarto. Stiamo in attesa di ricevere i risultati, se anche sul quarto tampone escono negativi si possono dire guariti e quindi non abbiamo più casi di contagio sul territorio. Grazie all'impegno di prevenzione ma anche al senso di responsabilità dei cittadini che hanno rispettato alla lettera le disposizioni nazionali e regionali ma anche quelle comunali per una ripresa molto più energica nella fase 2 ma anche cercando di sviluppare un po' il tessuto socio-economico del nostro territorio. E' una catena della solidarietà, quella che lega aziende ilpine, il comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo. L'obiettivo? Aiutare chi è in difficoltà, un imperativo morale che è diventato ancora più forte in periodo di coronavirus. L'emergenza sanitaria si sta infatti portando dietro una emergenza economica e sociale altrettanto preoccupante. Vigili del Fuoco ed aziende ilpine stanno facendo la loro parte per stare al fianco di chi è in difficoltà. Raccolti generi alimentari da destinare alle persone sole e alle famiglie, l'obiettivo è che nessuno resti da solo. Le derrate raccolte sono state consegnate con un mezzo dei Vigili del Fuoco alla Casa della Fraternità Monsignor Antonio Forte di Avellino e dal Vice Direttore della Caritas di Ocesana, Don Vitaliano della Sala. È tutto pronto per la nuova area Covid all'interno del frangipane di Ariano Irpino. 33 posti letto, 7 di intensiva, 10 di subintensiva e altri 16 di degenza normale in un'area separata dell'ospedale, permettendo al resto del nosocomio di Ariano Irpino di ripristinare le attività ordinarie in completa sicurezza per gli utenti. La morsa del contagio sembra aver allentato la presa e l'As non ne approfitta per riorganizzare strutture ospedali. Non l'unica novità positiva, buone notizie anche per il Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove sono pronti 6 posti di terapia intensiva e 4 di cardiologia. Ora per attivarli manca il personale, ma la manager dell'As, Maria Morgante, annuncia di riuscire a concludere le procedure concorsuali in tempi brevi. L'ospedale di Ariano Irpino saranno riaperti alle attività ordinarie, oltre che di emergenza, i nostri reparti. Il 4 maggio sarà inaugurato il nuovo reparto di neurologia con 10 posti letto, di cui 4 intensivi e 6 ordinari. Riaprirà la cardiologia, che fino ad oggi ha garantito l'emergenza con i 5 posti ultic. aprirà il blocco operatorio, quindi anche le attività programmate, quindi ortopedia, chirurgia, ginecologia. Riaprirà la pediatria. Sant'Angelo dei Lombardi, anche per Sant'Angelo dei Lombardi, sono in corso lavori per la realizzazione di 6 posti letto di terapia intensiva. Lavori che saranno completati entro il 15 maggio. Intanto stiamo lavorando per la installazione di una nuova TAC, anch'essa operativa per il 15 di maggio. Intanto i lavori invece per la realizzazione del reparto di cardiologia, che ricorda tutti il reparto di cardiologia con 6 posti letto realizzato con i fondi del progetto pilota, sono stati portati a termine. Il Pina si avvicina a piccoli passi al contagio zero. Su ben 390 tamponi processati nella giornata di ieri sono infatti solo due i casi positivi riscontrati. Un dato che fa il paio con quello campano. In regione solo 13 positivi su oltre 3.000 tamponi. Numeri che confermano un trend in netta decrescita. Un contagio che a un mese dal picco oggi è praticamente fermo grazie al rispetto del lockdown. In provincia di Avellino da inizio epidemia sono stati eseguiti 7.522 tamponi, 452 le positività riscontrate. Una percentuale, quella tra tamponi effettuati e positivi, che è scesa al 6% quando superava il 18 nei giorni del picco. I due nuovi pazienti positivi sono di Areano Irpino e Grotta Minarda, due persone asintomatiche scovate grazie ai test rapidi dall'ASL. Fermo da giorni, fortunatamente, il numero dei decessi che resta a quota 51. 23 di Areano Irpino, mentre aumenta senza sosta il dato dei guariti. Nella giornata di ieri hanno fatto ritorno a casa altre 17 persone. Il totale dei pazienti che hanno sconfitto il covid è arrivato a 196. Si contano dunque 205 positivi attivi ancora in Irpini, alla maggior parte in buone condizioni di salute, che sta aspettando la guarigione in isolamento domiciliare. Gli ospedali si sono infatti svuotati. Sono meno di una trentina i pazienti ricoverati tra frangipane e moscati. Cinque di questi sono in terapia intensiva. I carabinieri della sezione investigazione scientifica sono arrivati poco dopo le 10 del mattino nell'abitazione di Contrada Pettirossi, ad Atripalda. Qui, lo scorso 19 aprile, fu rinvenuto il corpo senza vita di Michele Luigi Naccarelli. Il 55enne fu ritrovato dal figlio in una pozza di sangue con una ferita alla testa. La sezione investigazione scientifica sta rimappando tutta l'abitazione, cercando tracce ematiche e materiale genetico, ma anche oggetti compatibili con la ferita che Naccarelli aveva alla testa. Sul corpo del 55enne è stata già eseguita l'autopsia. L'ipotesi è quella di una morte naturale, un ictus o un infarto, e la ferita alla testa sarebbe stata provocata dall'impatto con il pavimento. Il PM ha chiesto invece ai carabinieri di accertare se la ferita al capo di Michele Naccarelli sia precedente alla caduta, da qui dunque l'accesso all'abitazione di Contrada Pettirossi. Secondo quanto ricostruito fin qui dai carabinieri, Naccarelli era solo in casa. La porta era chiusa dall'interno. A ritrovare il corpo del padre è stato il figlio che ha aperto la porta di casa con una copia delle chiavi. L'uomo era riversa al suolo. L'abbondante fuoriuscita di sangue sembrerebbe essere attribuibile all'uso di farmaci anticoagulanti. Naccarelli nel 2012 fu condannato a 10 anni di reclusione per l'uccisione della moglie. Fu scarcerato poco prima di Pasqua. La famiglia del 55enne, rappresentata dall'avvocato Alfonso Maria Chieffo, ha nominato un perito di parte. La famiglia del 55enne, rappresentata dall'avvocato Alfonso Maria Chieffo, ha nominato un perito di parte. Ma guardate come le isovere sono disposte proprio da ovest verso est e quindi ancora aria umida dall'oceano verso le nostre regioni. Con un po' di variabilità sul nord-est, qui occasionali piovaschi. Comunque non mancheranno anche di rasserenamenti, specie al centro-sud. Gran variabilità, specie al nord Italia nei prossimi giorni. Ecco nel dettaglio la mappa delle precipitazioni perché ci mostra di piovaschi qualche focoleio temporalesco in giornata su Alpi, Prealpi, poi ancora parte delle Venezie. Abbiamo segnalato qualcosina anche lungo la Drossale Appenninica, qualche spot piovoso sulle zone interne. Meglio altrove, ma poi guardate come nuove perturbazioni saranno procinto di interessare proprio l'Europa centrale e parte del nord in questo fine settimana. Ecco nel dettaglio la situazione in sintesi, una giornata abbastanza buona per il centro-sud, isole maggiori, qualche isolato piovasco di uno sulla Drossale Appenninica, mentre guardate gli acquazzoni su Alpi, Prealpi e parte di Venezia in giornata. Quindi la situazione più vivace sarà proprio sull'estremo nord-est. Temperature massime comprese ovunque tra i 18 e i 25 gradi. Grazie.